E' stato un pomeriggio di grande festa e solidarietà a Giffoni-Vallepiana per l'amichevole tra la locale formazione di promozione La Cavese e quello di ieri. Un testo organizzato in memoria di Giampiero Foglia per raccogliere fondi a favore della sezione AIL di Salerno-Tulimieri. Foglia è stato per anni segretario della Giffonese ed è scomparso prematuramente nell'ottobre 2015 per una forma molto aggressiva di leucemia. L'associazione Ollus Il Gabbiano che ha voluto organizzare l'evento ha accolto il presidente della Cavese Campitiello con grande emozione. Poi c'è stata la partita con sette reti segnate tutte dai metelliani con Bellante, Meloni, Alleruzzo, due volte Fellica e doppietta anche per Gabrielloni. Una Cavese che dunque anche inamichevole non perde il vizietto del gol. Adesso per Mister Longo e per il gruppo il meritato riposo per le festività natalizie dopo l'allenamento svolto stamattina. Ripresa fissata per martedì 27 di pomeriggio allo stadio Superga di Mercato San Severino. Sempre lì poi dal mercoledì ci si allenerà invece di mattina.